Siamo con Alessio Nori e Giorgio Menichetti della San Giovanni Battista. Prima di tutto complimenti per una vittoria, un secco 4-2. Sensazioni e emozioni sulla partita, Alessio primo gol, un sinistro che fulmina il forziere sul suo palo. Sì, è molto caricato questo gol che è appunto sotto le gambe, inaspettato. Purtroppo mi è scappata la parolaccia quando ho segnato dall'euforia, chiedo scusa ai presenti. Insomma, bella partita comunque. Ma ripercuoterà solo la tua prestazione per la prossima partita? Sì, penso di sì. Purtroppo forse non giocherò e appunto chiedo ancora a sclusare. Mentre per Menichetti complimenti un muro difensivo, due gol subiti per errori della retroguardia ma non per colpa tua. Un vero leader nel reparto del retrato? Abbiamo iniziato l'altra volta con una formazione mai provata. Adesso abbiamo trovato l'assetto tattico, il modo per giocare. La dedica al nostro Federico Brandizzi che non è potuto essere con noi a causa febbre. Lo aspettiamo per la prossima partita. Ciao Fede! Un ultimo commento, sensazioni per la prossima partita che è tosta. Speriamo bene, dobbiamo stare carichi e andare a vincere senza nessun problema. Complimenti! Grazie! Grazie!